Ciao a tutti, sono Alexander Dario, ben trovati nell'Antimaterial Energy Allora, io ho iniziato a farmi il campetto qua di terra che trasformeremo in un bioma diverso Ho guardato che cosa serviva per fare il Biom Painter e semplicemente servivano 7 Carbon Nanotube E guarda caso noi li abbiamo, perché li avevamo fatti in precedenza se vi ricordate Quindi adesso lo facciamo subito al volo, mi pare che fosse una cosa così... Ah ma no, che stupido, non dentro la Crafting Station ma dentro il Synthetizer Esatto, 5 più 2 così, perfetto E abbiamo ottenuto il Biom Painter, quindi possiamo completare quella quest E in automatico ci dovrebbe dare completata infatti anche quella successiva che ci chiedeva la Lead Chest Quindi, allora, andiamo con ordine, climbiamo le due ricompense, una e due Ci dà questi blocchi un po' inutili ma vedremo di farne uso E ci ha sbloccato, vedo, altre quest Allora, qui ci chiede di fare una Plane Capsule Giustamente, una Plane Capsule ci servirà per trasformare il bioma, quel pezzo di terra, in un bioma di pianura Allora, scrivendo Plane non esce niente Vediamo scrivendo Capsule La Biom Capsule è piuttosto complicata da fare Non abbiamo nulla di tutto ciò noi ragazzi Come possiamo farla? Forse devo leggere la quest perché Ah, si può fare usando il Carbon Nanotube Ecco qua c'era un'indicazione Quindi noi non la vediamo tramite la Nei Ma se facciamo al contrario, quindi cerchiamo il Carbon Nanotube Dovrebbe dirci come ottenere Eccolo qua Plane Capsule Perfetto Quindi noi dobbiamo semplicemente mettere 10 Carbon Nanotube Oh mio Dio, ma è una quantità esagerata Va bene, quindi mi devo mettere a craftare O a vedere se magari ne abbiamo già Allora, di Carbonio qua ne abbiamo decisamente poco Allora, intanto che qua produciamo il Carbonio Oh, è già pieno Mannaggia, non me ne ero accorto Però siamo quasi a un Carbon Nanotube completo Ecco qua Perfetto Quindi niente, devo semplicemente buttare un bel po' di cellulosa dentro il Decomposer Per ottenere un sacco di Carbonio e fare i Carbon Nanotube Si fa abbastanza in fretta La cellulosa la otteniamo dalla legna E io legna ne ho parecchia, insomma Quindi non è un problema così grave come pensavo Quello che però volevo fare Era incrementare un pochino la nostra produzione di energia Perché solo questi due Survivalist Generator Non sa da fare Non sono sufficienti, secondo me Almeno per il momento E stavo vedendo di fare magari degli Stealing Generator Che gli Stealing Generator sono veramente una cosa facilissima da fare Quello che mi serve in realtà È uno di Redstone per fare i pistoni Quindi vediamo un attimo come si faceva la Redstone Perché non me lo ricordo Ok, Iron Oxid E del Copper Va bene, si fa anche abbastanza facile Forse ne ho anche Già da parte No, ok Purtroppo abbiamo solo un pezzo di Copper Quindi posso fare solo un pezzo di Reston E di conseguenza solo un Stealing Engine Però meglio che niente Non ci sputo sopra Perfetto, abbiamo il pistone E dovremmo avere Ah no, devo fare i Gear Che si fanno molto molto facilmente Devo solo procurarmi degli Stick Ok, due Basic Gear E adesso dovremmo avere davvero tutto Per poter fare il nostro Stealing Engine Oh, eccolo qua Purtroppo è solo uno Però uno è meglio che niente Almeno iniziamo ad aumentare un po' la produzione di energia Lo buttiamo, lo buttiamo Bah, lo buttiamo anche solo qua E dentro sto coso Noi dovremmo poter mettere l'idrogeno Infatti Perfetto Qui gli devo semplicemente dire però Che butti fuori Vediamo un po' a che punto siamo arrivati con il Carbonio Non siamo arrivati da nessuna parte Perché l'inventario qua è troppo pieno Ok, quindi Facciamo subito la caolinite Intanto che aspettiamo Di avere i Carbon Nanotube Tanto ho visto che si fa abbastanza facilmente Manca ancora l'ossido Eccolo qua Cavolinite La quest ce ne chiede 5 pezzi Quindi io avevo i pezzi giusti Ecco fatto Così Completiamo questa quest Che ci dà anche della Double Compressed Dirt E... uh... si è sbloccato il mondo qua Si è sbloccato il mondo ragazzi Abbiamo un sacco di quest in più da poter iniziare ad affrontare Pizza Owen Davvero? Ah no Un Inscriber Non è una pizza... un pizza oven Scherza come al solito Il creatore del modpack Però vedete abbiamo già le quest per fare la Lois Melter Il Sag Mill Tutte queste che... Tanto è... era questione di tempo Avrei voluto fare subito questi... questi macchinari Quindi a maggior ragione adesso sono ancora più motivato Qui... ehm... sto buttando tutto il nostro ossigeno e idrogeno in eccesso Mi spiace buttarli Però... questo macchinario si intasa troppo facilmente E... e quindi devo fare pulizia ogni tanto Allora mettiamo di nuovo la cellulosa a decomporsi Allora ragazzi come al solito OBS quando c'è da registrare non registra E quindi non avete visto che ho finito di creare l'ultimo... gli ultimi due Carbon Nanotube che mi servivano Ho creato la Plane Capsule che però aveva solo 32 cariche E quindi ho trasformato con questa... con questo pennello Questo nostro blocco di terra... di grassa anzi In bioma della pianura Sfortunatamente un paio di cubetti non ho potuto trasformarli Perché questo appunto avendo solo 32 cariche non è stato sufficiente Ho cintato il tutto Molto rapidamente con della cobblestone Giusto per evitare che qualsiasi cosa vada a spawnare Venga a romperci le scatole mentre noi siamo tranquilli nella nostra base E niente... questo è quanto Ora non mi resta che aspettare vedere se effettivamente qualcosa lì sopra spawna E a questo punto io vi do appuntamento alla prossima volta Ci si vede Ciao ciao Riprendo la registrazione perché appena vi ho salutato ragazzi è spawnato il primo mob Guardate sulla minimappa Dovremmo avere un simpatico scheletro Eccolo! Ciao! Come va? Allora io non ho un'arma per il momento Però ti prendo a volentieri a picconate E di questo passo ci metteremo un bel po' Avrei preferito che spawnasse uno zombie sinceramente Ok ce l'abbiamo fatta Lo zombie è morto Lo zombie Lo scheletro è morto E abbiamo finalmente ottenuto anche dei drop Quindi un osso e una freccia Quindi... bene Possiamo iniziare a pensare di fare magari anche un mob spawner A questo punto davvero vi saluto E vi do appuntamento al prossimo video Ciao ciao! Ciao ciao!